berberi 4 punto f attraverso francesca r michelle all'interno della stessa razza più o meno similare più o meno perché dipende sempre dalla singola capacità coscienziale di divenire e quindi di evolvere di potersi dipanare e muovere all'interno del momento del divenire quindi quello che tu mi hai chiesto è un qualcosa che ancora effettivamente non conoscete ma che riuscirete a scoprire a livello scientifico e quindi a darvene una ragione scientifica scusa ma allora questo miscelamento tra le varie razze è dovuto anche a una delle sconnessioni di sconnessioni geologiche perché sono razze così lontane se si sono miscelate e perché è successo qualcosa nella geologia della terra che in un qualche modo le ha avvicinate certo per fortuna perché il pianeta non è morto e quanto tempo fa super giù parliamo di diverse ere fa ere tu intendi eoni centinaia e centinaia di anni parlo grazie 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 grazie